La storia di Emanuele Orlandi è uno di quei casi, di quei misteri italiani che non lasciano indifferenti, è un qualcosa che provoca disprezzo, provoca rabbia, proprio perché c'è di mezzo anche il Vaticano e c'è di mezzo una famiglia che non sa la verità. Voi prima di prendere parte a questo film, che emozioni vi lasciava sapere di questa ragazza scomparsa? Io non ero nata quando è scomparsa Emanuela, ma nonostante questo è un fatto di cronaca che mi ha sempre molto interessato, un po' perché comunque era trattato continuamente dalle televisioni italiane, un po' perché anche la mia famiglia me ne parlava, ogni tanto è capitato, quindi per me è sempre stata una cosa nota e mi inquietava tantissimo, perché poi ogni tanto uscivano fuori rivelazioni, cose, piste di attentatori, aliacica, di pedofilia, preti, figure non ben identificate e quindi capivo che c'era una pagina assolutamente scabrosa della nostra storia italiana. E quindi poi insomma adesso fare parte di questo film in qualche modo mi inorgoglisce, perché qualcuno si è preso la responsabilità di portare al cinema una vicenda che secondo me merita l'attenzione di tutti. Per te Riccardo? Ma diciamo che questo è un film importante perché approccia questo racconto, questi fatti, in maniera molto seria, li ricostruisce secondo quelle che sono le ultime informazioni, tutte le informazioni a disposizione e però cerca anche di aprire delle ipotesi, degli scenari possibili sul perché e chi possiede questa verità e perché non ce la vuole raccontare. Ecco quindi c'è anche e viene ben messo in luce il buon lavoro di alcuni giornalisti che nel film sono interpretate da Maria Sanza e da Valentina Nodovini e quindi è il buon giornalismo. E quindi insomma è un film molto serio questo. Resto su di te per parlare del tuo personaggio. De Pedis è stato già raccontato nella letteratura ma anche in tv e al cinema, mi riferisco alla serie Romanzo Criminale e al film Romanzo Criminale. Ecco però qui in questo film di Faenza in realtà il tuo personaggio è un po' diverso perché si scopre essere non solo il Dandy diciamo ma il vero capo di questa banda che non è della Magliana ma di Testacci, Testaccini ecco. Tu tenendo presente l'altro racconto che è stato fatto di De Pedis con gli altri mezzi, tu su che cosa hai puntato su questo personaggio per dare la tua lettura di questo personaggio? Ma intanto il personaggio raccontato attraverso la ricostruzione che fa la Minardi, quindi quello che vediamo nel film è un po' la memoria di Sabrina e chiaramente anche altre informazioni e dati a disposizione degli autori. Diciamo che la differenza in questo De Pedis è che probabilmente si capisce più chiaramente la sua capacità strategica, è un po' uno stratega, il fatto che non si drogasse, che non fumasse, che non bevesse, che avesse una specie di rigore del comportamento rivolto a mantenere una certa lucidità per poter gestire una serie di rapporti importanti che chiaramente vanno dai servizi segreti deviati a prelati piuttosto che uomini della politica, senatori, uomini d'affare, insomma capiamo che questo De Pedis è un De Pedis che riesce a giocare a tavoli molto molto importanti, quindi è avere a che fare con delle parti delle istituzioni anche.